Rima gli offerto della droga in modo tale da inibirne le capacità di reazione. Poi ha abusato sessualmente di lui approfittando della sua giovanissima età. Con l'accusa di violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti in danno di un minorenne, i carabinieri della compagnia di Barletta hanno arrestato un 53enne originario del Venezuela senza fissa dimora a seguito di un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Trani. L'ordinanza cautelare è scattata a seguito delle delicate indagini condotte dai militari sulla vicenda dopo che il ragazzo in lacrime ha deciso di raccontare tutto ai suoi genitori. La vittima, un 15enne romeno residente nella città della disfida, sarebbe stata adescata per strada dall'uomo che in seguito lo avrebbe convinto a fare uso di stupefacenti. Il minore, stordito dalla droga, sarebbe stato poi violentato dall'uomo senza riuscire ad opporre resistenza. L'attività investigativa ha condotto i militari sino all'abitazione del venezuelano, sottoposta perquisizione. All'interno sono state rinvenute dosi di hashish e cocaina, alcuni giochi erotici e due telefoni cellulari con in memoria filmati e foto pedopornografiche. Alla luce degli elementi acquisiti e di fronte al concreto pericolo di fuga, la procura ha emesso nei confronti del 53enne un provvedimento di fermo di indiziato di delitto che si è tramutato in ordinanza di custode cautelare dopo la convalida del GIP. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Trani.